C'è una festa della comunità peorrusse che è sempre una bella occasione, l'incontro libero e sereno, ci è passato che potesse essere invece lo spunto, ecco di qui con l'assessore alle politiche sociali, per costruire un ragionamento, un principio di collaborazione più articolato che speriamo ci porti lontano, ci porti ad una vera e propria collaborazione con lo Stato peorrusso, con le importanti attività che il console napoletano, che l'irisiede e il Rani conduce da lunghi anni, che dia quella centralità alla quale noi cerchiamo in verità tutti i giorni di lavorare alla città di Napoli, nel dialogo interculturale, nel dialogo con il bacino del Mediterraneo, nel dialogo con paesi che hanno un'importanza logistica e strategica fondamentale nel pianeta. Un Natale per i bambini all'insegna dell'integrazione e dell'amicizia. Nella sala del Consiglio Comunale di Napoli è stato presentato un programma di tre giorni di animazione e spettacoli, dal 15 al 17 dicembre, che vedrà protagonista la comunità dei bielorussi a Napoli in tre diversi momenti, dalla presenza nel Centro Polifunzionale San Francesco di Assisi a Mare Chiaro, a Piazza del Gesù Nuovo e dalla Chiesa Santa Croce e Purgatorio in Piazza Mercato. Noi stiamo mettendo a disposizione uno spazio che è quello di Mare Chiaro, che per noi rappresenta un luogo particolare, intanto perché la nostra struttura di Mare Chiaro San Francesco, il sito San Francesco che è proprio sulla discesa di Mare Chiaro, che va proprio verso una delle zone più belle della nostra città, è un luogo di incontro dei ragazzi, dei ragazzi e dei bambini. Quindi abbiamo accolto che abbiamo lì ancora alcuni ragazzi che sono arrivati con gli sbarchi che a Napoli vedono arrivare centinaia, migliaia volte di persone che vengono praticamente raccolte nel nostro Mediterraneo. Quindi quello è un luogo in cui noi vogliamo favorire proprio l'incontro fra i ragazzi e fra le culture. Grazie a tutti.